Gli ultimi aggiornamenti di Windows rischiano di diventare un vero incubo per tanti utenti, ma che cosa sta succedendo e soprattutto come possiamo risolvere definitivamente il problema? Te lo faccio vedere subito e quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! Tu ce la metti tutta, stai scaricando l'ultimo aggiornamento di Windows perché vuoi avere un sistema in forma, preciso, protetto e scattante, ma all'improvviso ti succede che... Sto scherzando, ma neanche troppo, perché recentemente, oltre alle famigerate schermate blu della morte, si sta verificando sempre più spesso che molti utenti stiano incontrando delle gravissime difficoltà in fase di installazione degli aggiornamenti, che possono bloccarsi ad una certa percentuale del download oppure dell'installazione stessa, oppure che vadano a buon fine, ma successivamente rivelino delle incompatibilità con l'hardware oppure con il software dei nostri PC causando una serie di malfunzionamenti veramente frustranti. Come ciliegina sulla torta bisogna aggiungere che mamma Microsoft nella maggior parte dei casi è latitante e fa spallucce e quando risponde, tante volte, lo fa con delle supercazzole veramente senza senso. Ma allora come possiamo fare, perlomeno ad aumentare, le probabilità che i nostri aggiornamenti vadano a buon fine? Ebbene, devi sapere che ci sono una serie di accorgimenti che possiamo mettere in atto e che sto immediatamente per mostrarti. Tranquillo, non ho nessunissima intenzione di leggerti tutta quanta questa parata di articoli che ti sto mostrando. L'unica cosa che vorrei che facessi è dare un'occhiata ai titoli di queste riviste che parlano di tutti quanti i problemi verificatisi più o meno nell'ultimo mese, mese e mezzo, con gli aggiornamenti di Windows, in particolar modo, come abbiamo detto, di Windows 11 24 H2. Ma quello che abbiamo potuto notare sia con i PC dei miei clienti, sia con i feedback ricevuti dai membri della community, e che esistono dei comuni denominatori nelle macchine che hanno questi problemi di update. Agendo a monte su queste problematiche, è possibile far sì che le probabilità che gli aggiornamenti vadano a buon fine aumentino. E allora andiamo a vederle. La prima questione da affrontare a livello propedeutico è quella relativa al backup e dai punti di ripristino. Di che cosa sto parlando? Il backup è naturalmente una copia di tutti quanti i file importanti presenti sul nostro computer, mentre i punti di ripristino sono una sorta di fotografie del sistema operativo che scattiamo quando questo funziona bene in modo da poter eventualmente, come dice la parola stessa, ripristinare quello stato in caso di difficoltà. Abbiamo trattato questi argomenti in diversi video precedenti che ti lascio qui nella descrizione, come ti lascerò in descrizione tutti gli altri argomenti che tratteremo nel prosieguo di questo video a cui potrai fare riferimento. Una raccomandazione particolarissima che ti do è quella di creare immediatamente un punto di ripristino anche se pensi di non averne bisogno. Puoi utilizzare per questo scopo l'utility creata dal nostro moderatore della community Chris che serve perfettamente a questo scopo. Andiamo avanti! Un primo problema che può essere diostativa alla corretta installazione dei nostri aggiornamenti è la quantità di spazio libero sull'hard disk principale del tuo PC. Puoi verificarla tranquillamente andando qui in basso in Esplora File, cliccando sulla voce Questo PC e accertandoti che lo spazio libero sia sufficiente. Lo vedi scritto sia qui in basso, sia evidenziato visivamente dalla parte bianca di questa barra. Nel caso in cui lo spazio libero non sia sufficiente potrai utilizzare una serie di strumenti come ad esempio la funzionalità Esplora Disco che puoi andare a cercare direttamente qui nella barra di ricerca del menu Start e una volta aperta ti consentirà appunto di fare pulizia di file di sistema e di cose che non ti servono più. Si tratta di un utility Microsoft che puoi usare in tutta tranquillità. Naturalmente c'è un video dedicato anche su questa che puoi trovare facendo una ricerca sul canale oppure che ti metterò qui in basso nella descrizione del video. Proseguiamo. E il prossimo punto potrà effettivamente fare sorridere perché quello che sto per dirti è che per aggiornare correttamente il tuo PC devi avere un PC aggiornato. Che cosa significa però questo? Significa che devi avere tutti quanti i driver in ordine e aggiornati perché il mancato aggiornamento dei driver è innanzitutto alla base di una serie di malfunzionamenti del PC ma anche e non ultimo alla base di una serie di problemi nell'installazione degli aggiornamenti. Potrei fare riferimento a questo programma che naturalmente ti lascio in descrizione e che ho presentato in uno dei primissimi video. Si chiama Snappy Driver ed è in grado di fare praticamente tutto quanto da solo. Un'altra cosa a cui prestare la massima attenzione sono i cosiddetti antivirus di terze parti. Quelli che per intenderci non sono né Microsoft Defender né Windows Defender. Questi possono effettivamente andare ad interferire con il processo di installazione in tanti casi anche bloccandolo. Quindi sarà opportuno intervenire prima che inizi l'aggiornamento e successivamente dopo che l'aggiornamento è andato a buon fine. Consiglione numero 5. Fai molta attenzione alla qualità della tua connessione perché abbiamo notato più e più volte che in caso di connessioni lente oppure addirittura di connessioni instabili naturalmente il download ma anche l'installazione stessa degli aggiornamenti può non andare a buon fine perché anche se l'aggiornamento è stato correttamente scaricato successivamente molto spesso ha bisogno comunque di comunicare con il server della Microsoft e se la connessione si interrompe l'aggiornamento si blocca completamente. Cosa posso suggerirti? Naturalmente di utilizzare una connessione stabile e questa è una scoperta dell'acqua calda ma laddove sia possibile soprattutto di utilizzare una connessione cablata a costo anche eventualmente di collegare temporaneamente un cavo tra il tuo pc e il router. Ed eccoci arrivati al nostro ultimo fondamentale consiglio perché questa è la causa principale di fallimento degli aggiornamenti ma prima che mi dimentichi ricordo anche a te che se ne hai voglia ti puoi iscrivere ad entrambi i nostri canali sarebbe fondamentale e che qui in basso nella mitica descrizione del video ti lascio anche i riferimenti a tutti quanti i nostri social così possiamo stare vicini vicini. Ma torniamo a noi perché l'ultima causa di fallimento degli aggiornamenti sono le applicazioni in background. Ebbene sì, sono tutte quelle applicazioni che funzionano senza che noi praticamente ce ne accorgiamo non le vediamo ma possono fare dei grossi danni durante gli aggiornamenti. Non ti dico naturalmente di disinstallarle ma almeno di sospenderne l'utilizzo fino a quando l'aggiornamento non sarà andato a buon fine. Se vuoi un ottimo strumento per vedere quali sono queste applicazioni in background sul tuo pc ti lascio sempre nella descrizione anche il nostro video di Process Lasso in cui abbiamo descritto questo strumento che è in grado di farti fare piazza pulita in un batter d'occhio. Spero davvero che grazie a questi accorgimenti tu riesca a risolvere o almeno a mitigare tutti quanti i tuoi problemi con gli aggiornamenti. Ricorda che questi suggerimenti sono evergreen e li potrai sempre usare anche in futuro perché restano validi a prescindere anche dal sistema operativo ma veniamo a noi anzi veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono un po' tant'è che ho utilizzato il mio mitico foglietto e quindi ringraziamo in mantenente Armando Groppi, Vincenzo Di Rosa, Michele Chirico, Pietro Boni, Matteo e Giuseppe Lerose che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento al nostro canale e quindi benvenuti o ben rimasti a bordo della community dei gentiluomini ma attenzione un ringraziamento speciale va a Carlo Giuseppe Lamanna, Roberto Gallina, Giuliano Pelacci e Claudio perché? Beh perché si sono sia abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini e quindi cari ragazzi è con vero piacere che ancora una volta mi tolgo il mio cappello farlocco davanti a voi e non abbiamo terminato perché ringraziamo anche Luciano Noè, Alessandro Tarquinio e Marietto 60 per i loro generosissimi super grazie con i quali hanno voluto contribuire alla vita della nostra community e cercando bene sulla mia scrivania ho trovato un altro ringraziamento e cioè quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima iscriviti iscriviti